Una settimana a casa di un malattia per un volo da queste scale mi sono stufato e ho comprato la banda anti scivolo da incollare e adesso la vado ad applicare la sottovoce perché Efram dorme o perlomeno proviamo a farlo dormire che è dura montata la striscia anti scivolo le scale così speriamo di non farci un'altra settimana a casa ma no io ci voglio casa si ma non con la schiena rotta ok ho dato la striscia ora la proviamo adesso il colmo se mettere la prova veloce comunque è da cotta il piede è bello saldo e la mia schiena ringrazierà ci ho dovuto piantare il culo prima di montarla però alla fine l'abbiamo montata ciao mondo alla prossima ciao 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 ciao